Buongiorno a tutti, sono Gabriele Zampar, consulente alla vendita Volkswagen, lavoro presso Auto Maueridge, San Giovanni Annatesone, via Nazionale 7. Oggi andremo a scoprire il funzionamento dell'assistente al parcheggio Volkswagen. Per testare l'assistente al parcheggio oggi ci troviamo su nuova Volkswagen T-Roc, allestimento R-Line, la 1.5 con il cambio DSG, ma questo è un altro discorso perché oggi non vi venderò l'auto, ma bensì andremo a scoprire il funzionamento dell'assistente al parcheggio Volkswagen. Ricordo che l'assistente lo troviamo su tutte le versioni della nuova T-Roc, dalla Life alla Stai alla R-Line di serie. Quindi, una volta individuato il nostro parcheggio, andremo ad azionare il tasto della P, metteremo la freccia nella direzione in cui vogliamo parcheggiare, inseriamo la marcia D per andare avanti, molliamo il freno, in questo caso per un cambio automatico, andremo piano, ok, finché la freccia non troverà il parcheggio, ok, andremo a ricliccare il nostro tasto P, inseriremo la retromarcia, come da indicazione, molleremo il freno, la macchina farà il resto. Quindi andiamo, l'operazione verrà conclusa seguendo e tenendo conto della barretta lì o dell'avviso acustico, quindi aspettiamo finché lui non ci dice di fermarci, bene, inseriamo la marcia avanti, come da indicazione, il volante girerà, aspettiamo, aspettiamo, ancora, perfetto, inseriamo la retro, ultima manovra, mettiamo la marcia per andare avanti, le ultime sterzate per un parcheggio perfetto e siamo arrivati a destinazione, inseriamo in questo caso la P, freno a mano e andiamo a spegnere la nostra vettura.